Come sta andando se dovesse fare un primo focus sulla vostra categoria, il rapporto al mercato, le congiunture, come sta andando il vostro lavoro? È un momento molto delicato, lo definirei così, nello stesso tempo credo che sempre di più da quello che registriamo da parte della clientela ci sia questa necessità di usufruire di un servizio che sia orientato in particolar modo alla tutela, alla salvaguardia, all'assistenza in uno dei momenti più delicati di ognuno di noi che è quello appunto di comprarsi una casa. Assolutamente sì. Allora andiamo nello specifico delle domande così affrontiamo i vari temi tutti insieme. Cominciamo dal report immobiliare turistico con le previsioni per l'estate 2024 che avete presentato. Che cosa emerge da questo report immobiliare turistico? L'elemento più importante è che anche quest'anno le locazioni turistiche si confermano essere una risorsa necessaria strategica straordinaria per il sistema paese, per l'economia sia locale che nazionale, un necessario ampliamento dell'offerta turistica nazionale perché si attendono oltre 65 milioni di turisti per quest'estate, soprattutto nordamericani e cinesi e le strutture ricettive tradizionali non consentono di accogliere tutti. Quindi serve la disponibilità di proprietari di mettere a disposizione delle seconde case per turisti vacanzieri che decidono di fare una vacanza differente, in autonomia, in libertà, senza vincoli legati all'hotelleria o comunque alle strutture ricettive tradizionali e sicuramente non sempre per motivi economici, perché non sempre gli affitti turistici costano meno, ma appunto questo desiderio di una maggiore indipendenza e libertà ovviamente poi con meno servizi perché sappiamo che gli hotel ne offrono di maggiori. Senta, sai che questo è un tema polemico, come lei sa, politico anche, no? Cioè l'idea che poi io lo traduco in maniera un po' rozza, no? Allora a Barcellona si è arrivato addirittura allo stop dell'educazione turistica dal 2029, quindi la politica è intervenuta in maniera pesante, però il tema sotterraneo o esplicito è che poi alla fine i proprietari di case, come dice lei, danno alle case di affitti turistici e ritorno dal mercato per la gente che ha bisogno poi della casa per un affitto un po' più consistente, oppure, seconda polemica, che questo tipo di mercato incide poi sul prezzo dell'affitto, quindi sì, si trova, ma delle cifre drogate, tra virgolette, dal mercato turistico. Ma questa è una visione che è smentita dai fatti, diciamo ci sono tante esperienze europee, ma anche extraeuropee, che dimostrano il contrario, faccio alcuni esempi pratici per intenderci, al di là di Barcellona, del sindaco Colboni, che ha un'ideologia socialista, che appunto pensa e ritiene che in questi dieci anni, dove c'è stato un aumento del 68% dei canoni di locazione ed è diminuita l'offerta di case appunto per le famiglie, per gli studenti, i lavoratori fuori sede, ritiene che la colpa maggiore sia dettata appunto da chi mette a disposizione le proprie case per turisti e vacanzieri. In realtà in questi dieci anni Barcellona ha già, come dire, preso dei provvedimenti limitativi degli affitti turistici, perché ha vietato l'affitto di singole camere, di singole stanze e appunto in questi dieci anni i risultati sono stati, contrariamente a quello che lui sostiene, appunto negativi. Non solo, Amsterdam limita temporalmente per 30 giorni massimo all'anno affittare per periodi brevi per i proprietari, ma anche la stessa Ginevra 60 giorni, piuttosto che Berlino, Londra, Madrid 90 giorni, Parigi 120, ma già da tanti anni accade questo. New York, lei saprà, a settembre dell'anno scorso, ha vietato fondamentalmente gli affitti turistici, perché consente solo a un proprietario di ricevere in casa il turista, con lui presente e al massimo due turisti, il che vuol dire vietarli fondamentalmente. Insomma, queste regole in atto da tanti anni dimostrano che è aumentato il sommerso, quindi l'illegalità e l'abusivismo correlato, e soprattutto i canoni sono aumentati e l'offerta di casa è nettamente peggiorata. Quindi noi pensiamo che la strada non sia quella di limitare o vietare gli affitti turistici, perché i problemi che diceva lei ci sono, quelli della gentrificazione, dello spopolamento dei centri storici, dell'emergenza abitativa, sono tutti temi reali, ma vanno affrontati cercando di comprendere i motivi per i quali i proprietari decidono di affittare breve e non lungo, e fondamentalmente il fatto che affittare lungo vuol dire rendere questi affitti più, come dire, ci sono delle paure della sicurezza di rientrare in possesso dell'immobile, sono meno flessibili gli affitti lunghi, sono meno appunto sicuri e meno redditisti. Quindi cerchiamo di comprendere queste ragioni, attuiamo delle politiche abitative mirate, adeguate, che da una parte portano ad un aumento dell'offerta residenziale sia sociale che pubblica, appunto per chi ha meno possibilità economiche, e dall'altra stimolino, non obbligano, stimolino i proprietari ad affittare a medio e lungo termine, magari con delle forme, con degli strumenti di incentivazione fiscale, per esempio riducendo l'IMU o eliminandola per chi ha affitto a lungo, o strumenti urbanistici come agevolare i cambi d'uso. Molto chiaro, insomma, questo è un tema importante e giustamente ci siamo soffermati. Veniamo ad un altro tema decisivo, noi ne discutiamo tantissimo, quei talpess economy, dal punto di vista ovviamente di politiche monetarie, di politiche economiche, di effetti sui nostri portafogli, e cioè il costo del denaro, insomma. Ma no, quindi sappiamo che è aumentato vertiginosamente negli ultimi due anni e sappiamo che dopo tante attese e dopo tante pressioni l'ABC ha ridotto solo di un quarto di punto il costo del denaro nel 2024. Secondo me, questa è una responsabilità che mi prendo io, poco, e perché l'inflazione non andrà forse al 2% ideale a breve termine, ma già al 2,5% e al 2,6% forse si può venire incontro ai cittadini e alle aziende con dei tagli, diciamo, ulteriori, ma quello che le volevo dire, che effetto ha avuto sul mercato immobiliare, quindi anche sul vostro lavoro, questo aumento vertiginoso e che se c'è già un effetto positivo di questo piccolino taglio, che comunque però un taglio è, insomma. Sì, è una prima, diciamo, misura, ovviamente, positiva. Sì, gli effetti iniziano a vedersi, ma non tanto per il taglio in sé, che come diceva lei, è ridotto, un 0,25%, è poco e soprattutto incide solo perché ha tassi variabili, perché ovviamente che ha il tasso fisso non cambia nulla, ma è il segnale che è stato dato. Infatti, nei primi tre mesi l'Agenzia delle Entrate comunque ha registrato un meno 7,2% di compravendite immobiliari residenziali rispetto al trimestre, al primo trimestre dell'anno scorso. Però questo rallentamento è dovuto al fatto che le persone hanno aspettato appunto il taglio che era stato annunciato a giugno di quest'anno e secondo noi anche il fatto che c'erano le elezioni europee è come dire una sorta di attesa di una conferma del governo insomma e quindi di una serenità e di una tranquillità anche a livello di misure normative, politiche in relazione al nostro comparto, al nostro settore. Riteniamo che da adesso in avanti ma già appunto qualche segnale lo abbiamo già iniziato a vedere ci sia una rinnovata fiducia appunto per in termini positivi per il mercato immobiliare per l'accesso alla casa. Senta, un'altra norma che ha fatto molto discute del cosiddetto decreto salva casa che il governo ha varato diciamo poco tempo prima appunto le elezioni europee voluto fortemente dalla Lega dal Ministro delle Infrastrutture Salvini ma ora al di là delle polemiche politiche questo decreto che viene incontro a una serie numerosissima di piccole infrazioni che vengono così sanate per evitare polemiche che vanno a finire diciamo così inutilmente nella burocrazia lei lo debba da positivo era utile giusto è un passo in avanti insomma cosa ne pensa? Noi siamo stati tra i promotori di questo primo pacchetto di norme siamo presenti al tavolo del Ministero delle Infrastrature e dei Trasporti e da anni chiediamolo abbiamo fatto anche qui da lei un piano nazionale sulla casa appunto che si è orientato a attuare una sinergia tra pubblico e privato per aumentare l'offerta di case soprattutto nelle grandi città come Milano Torino Firenze Bologna dove c'è una scarsità di offerte questo comporta un aumento sia dei prezzi delle case che dei canoni rendendo più faticoso l'accesso alla casa quindi sicuramente un primo pacchetto ripeto un primo pacchetto di norme che renderà secondo noi più sicure e veloci le compravendite immobiliari perché l'80% sottolineo l'80% degli immobili in Italia hanno delle lievi difformità edilizie urbanistiche e purtroppo spesso non sono intercettabili e quando sono intercettate non sono sanabili in tempi sicuri e veloci e questo provvedimento va esattamente nella direzione di rendere più facilmente intercettabili queste difformità e soprattutto sanabili in tempi certi con la misura del silenzio assenso che dopo 45 giorni se la pubblica amministrazione non risponda automaticamente si intende accolta a distanza certo io mi ricordo che nell'intervista che abbiamo fatto diciamo per primo piano lei era già intervenuto e l'ultima domanda è un tema però importante sul tema delle case green diciamo l'efficientamento energetico ha già spiegato dalla sua visuale molto bene noi abbiamo un patrimonio molto complesso diverso anche per la sua storia diverso per la sua posizione geografica e quindi applicare una norma centralizzata che prevede dei limiti nel tempo che prevede diciamo una cosa non riferita al nostro sistema sarebbe stata una follia poi è diventata scoppiata la polemica politica io direi che ne abbiamo parlato è stato uno dei cavalli di battaglia della recente io ho fatto 40 interviste e tutte e 40 intervistate di tutti i partiti hanno parlato di questo tema ma lei che cosa pensa che era stato già lucido prima ora c'è stata la norma ora c'è la polemica politica ci sono state le elezioni vedremo cosa succederà mi sembra come diceva lei che l'Europa vada a ricomporsi più o meno sulle maggioranze del passato anche se però sul Green Deal qualcosa è venuto fuori dal voto bisogna terne conto allora che cosa secondo lei anche come contributo specializzato che voi potete dare in questo senso alla politica italiana che poi ci rappresenta a Bruxelles è necessario fare sì noi abbiamo un documento che abbiamo presentato a tutti gli europarlamentari molti dei quali per fortuna sono stati alcuni confermati altri eletti e secondo noi va cambiata la direttiva va cambiata l'impostazione non è corretta la finalità è virtuosa tutti desideriamo avere una casa efficientata meno energivora che impatta diciamo meno nell'ambiente abbia un decoro contribuisca diciamo al decoro urbano abbiamo fatto un claim giusta la finalità sbagliata la modalità rispetto al 2021 l'impostazione è stata alleggerita però oggi gli obiettivi prefissati dall'Europa sono inattuabili proprio tecnicamente inattuabili nel nostro paese per le caratteristiche come diceva lei del nostro patrimonio immobiliare che per l'80% appunto è vetusto è vecchio nelle ultime tre classi energetiche quindi dobbiamo rendere fattibile percorribile il raggiungimento di questi obiettivi i traguardi temporali vanno allentati quindi una maggiore gradualità temporale e vanno attuati vanno messi in campo delle risorse un fondo energetico europeo per consentire di accompagnare non obbligare accompagnare il cittadino in questa transizione ecologica virtuosa ripeto che tutti desideriamo quant'è il costo più o meno è stato detto per famiglia 40-50 ma diciamo dipende su un appartamento una villetta ma va dai 40.000 ai 100.000 euro perché i due lavori diciamo di maggiore importanza e priorità sono il termocappoto e la pompa di calore poi ci vanno i pannelli fotovoltaici in aggiunta ma insomma i due più importanti sono questi sono i più costosi infatti tra le nostre proposte c'è di prevedere lato Italia una riforma di bonus fiscali perché come sappiamo il super bonus va a scomparire i vari bonus fiscali casa vanno depotenziati vanno nella direzione quella secondo noi però un riordino va fatto perché alcuni bonus saranno necessari e vanno messi in atto degli strumenti finanziari a supporto della comunità senta visto che lei è stato bravo c'è un bonus invece di tempo di un minuto e quaranta quindi lo usiamo così le faccio una domanda se me lo concedo un po' filosofica sociologica parliamo delle nuove generazioni parliamo dell'uso diverso della macchina ma anche della casa della difficoltà di comprarla ma poi insomma io mi ricordo ero andato in convegno importante un paio di anni fa avevo scoperto lì che gli italiani sono proprietari di casa maniacali insomma rispetto all'Europa dove invece i cittadini europei non sentono il bisogno di possedere per forza la casa ma la casa per noi italiani del ventunesimo secolo degli anni venti del ventunesimo secolo ancora quel valore lì simbolo rifugio di un tempo sta cambiando ma il valore della casa in Italia è e rimane diciamo centrale io dico sempre un bambino nei primi cinque anni di vita impara tra i primi tre termini il termine casa quindi questo ci dice tanto dell'aspetto diciamo sociale valoriale che ha nel nostro paese e devo dire che non solo si conferma è una delle priorità diciamo dei genitori ma anche dei figli che si parlava già dieci anni fa che non ci sarà più la compravendita ma andranno tutti in affitto ci saranno perché è più flessibile dinamico in realtà noi questo passaggio non lo stiamo riscontrando anzi il desiderio uno tra i desideri dei giovanissimi è comprarsi la casa poi c'è il tema di riuscire a farlo che è un altro tema ma la vogliono avere la casa di loro proprietà e questo credo sia un elemento che faccia la differenza in termini positivi nel nostro paese grazie a tutti